bella a tutti ragazzi buona domenica e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi un sacco di novità per quello che succederà nei prossimi giorni e nella prossima settimana di fortnite vedremo ragazzi tutti i bug che verranno fissati con la patch 13.30 un primo sguardo alla galaxy scout che è stata accidentalmente spoilerata e vi parlerò anche di un bel po di modifiche che ancora non sapete prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente nel primo argomento di oggi ed è un bellissimo calendario aggiornato che ci arriva direttamente da un utente sudamericano come vedete alcuni giorni ovviamente li abbiamo già passati ma quelli che ci interessano sono il 20 luglio dove ci saranno le registrazioni per la galaxy cup ragazzi galaxy cup davvero interessantissima ne parliamo bene fra pochi secondi il 21 luglio un'altra grandissima data per quello che riguarda questa settimana perché arriveranno i veicoli e il gameplay verrà stravolto completamente dall'introduzione di nuove meccaniche di gioco nuovi veicoli e tanta tanta roba il 24 luglio invece avremo un ulteriore abbassamento del livello dell'acqua dove verranno scoperte tantissime nuove location mentre il 25 e il 26 luglio ci sarà la vera e propria galaxy cup quindi ragazzi una settimana anzi 12 12 13 giorni pieni di roba da fare tanta tanta roba e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi ed eccola proprio qua ragazzi un'immagine che se avete guardato le news delle ultime 24 ore o il mio post su instagram ieri mattina sicuramente avrete visto samsung nella sua app spoiler per errore mi sa che non era proprio tanto un errore la pubblicità della galaxy cup ed eccola qua ragazzi veramente bella questa immagine un po sfocata ma questa invece è molto più nitida è un render ovviamente fatto da qualcuno che sa lavorare con i programmi di grafica ma serve per farvi capire quale sarà lo stile della skin purtroppo non abbiamo ancora delle informazioni dettagliate su come si potrà registrarsi alla cap il 20 io ovviamente vi terrò aggiornati anche su instagram quando arriverà qualche novità tutti gli utenti di di samsung potranno accedere alla cap e la rende proprio ragazzi uno dei tornei più esclusivi e rari ovviamente come ricompense perché se voi immaginate che pochissima gente alla fine pochissima per modo di dire ma comunque non la gente come se facessimo un torneo normale potrà partecipare e aggiungete che pochi di questi potranno ottenere la skin beh ragazzi un bel in bocca al lupo provateci perché sarà una delle skin più rare in assoluto del gioco e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché abbiamo un bellissimo set di fotografie che fanno riferimento a tutte le location che sono emerse ieri mattina alle 9 quando il livello dell'acqua si è ulteriormente abbassato devo dire che in questo momento la mappa è tanta tanta roba come vedete ragazzi stiamo facendo delle panoramiche ci salta subito all'occhio che parco pacifico è completamente riemerso non ci sono più quei grandi cose galleggianti che tenevano su le strutture ma è esattamente come siamo abituati a vederlo si è abbassata tantissimo anche a scogliere tanto anche a moli molesti e guardate questa bellissima inquadratura con un grandangolo che ci fa vedere come in realtà il livello dell'acqua in eccesso è davvero poco adesso ve lo ricordo questa è un'immagine che ci dice che alle 9 del mattino del 24 luglio avremo l'ulteriore abbassamento delle acque tra l'altro una delle novità che mi sono dimenticato di dirvi è che si è aperta la grande porta dell'autorità questo potrebbe anche servire forse per uscire perché dovrebbero sponare da lì forse dei veicoli non adesso probabilmente potremmo uscire ma quando si abbasserà ulteriormente così si dice io non lo posso confermare ma staremo a vedere e devo parlare del prossimo argomento di oggi perché abbiamo una serie di bug ufficialmente dichiarati come da fixare quindi la patch 13.30 che arriverà secondo me martedì 21 luglio insieme ai veicoli porterà anche una serie di fix che sono assolutamente graditi per quelli del battle royale il problema dei mulinelli quindi fixeranno il problema dei mulinelli saranno nuovamente disponibili supply drops at the authority not opening when search i drop che vengono aperti all'autorità a volte si buggano e non possono essere aperti quindi sistemeranno anche questo se utilizzate dei setting appunto di grafica bassi magari su chi utilizza computer meno potenti succede il bug degli anelli non li potete vedere quindi difficilmente potrete raccoglierli dovrebbero sistemare anche questo problema e quindi saranno disponibili per tutti black rectangles appearing behind player when turning around in the storm e a me è successo questo bug se siete nella tempesta e state magari correndo verso la safe possono apparirvi dei rettangoli neri che vi spiazzano un secondo ci passate attraverso tranquillamente ma a me è successo una cosa particolare per terminare gliding not work properly around the authority quindi fixeranno anche il bug dove non si può planare o meglio utilizzare il deltaplano sopra l'autorità quindi non era una cosa voluta era un bug verrà fixata modifiche anche per salvo al mondo abbiamo dei problemi nelle animazioni dei costruttori e ammo is consumed with a weapon in dropped and picked up vengono consumate delle munizioni è quando si droppa e si riprende un'arma e per terminare ragazzi su mobile i nomi dei giocatori sono tagliati nella chat vocale nei menu social quindi modifiche davvero interessanti andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché arriva un argomento veramente rovente su reddit sapete che quando ci sono degli argomenti roventi io ve li propongo in modo che anche voi vi facciate un'idea di quello che la community mondiale dice riguardo certe cose e ovviamente vi sto facendo vedere un concept sapete che happy games ve lo ripeto spesso e volentieri quando vi faccio vedere i concept prende spunto è successo tante volte dai topic più hot e poi renderizza prepara e mette le skin in game questa è veramente bellissima perché è una skin come vedete con una bolla di sapone e la particolarità è che nel backpack c'è una specie di asta per fare le bolle di sapone con il lama oltretutto come avrete notato nell'immagine precedente quando il personaggio non sta tenendo il piccone lo può riporre direttamente nella sua sacca e quindi correndo potrebbero formarsi delle bolle di sapore questo è un concept ma secondo me happy games ci farà un pensierino andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché c'è un altro problema veramente notevole che si sta diciamo sta diventando un vespaio su reddit è il problema delle armi mitiche e dei boss come tutti ci ricordiamo la prima volta che happy games ha deciso di inserire un'arma mitica in game fu l'infinity blade nella season 7 allora eravamo sopra il picco polare se non ricordo male al centro c'era questa spada nella roccia contesa da mezza lobby poi uno la prendeva iniziava a spadare di prepotenza chiudeva la partita con 19 miliardi di kill perché c'è un problema con le armi mitiche e secondo me i player hanno ragione perché succede che molti giocatori droppano nelle location dove ci sono i boss con le armi mitiche uccidono i boss e poi se ne vanno questo effettivamente è una cosa che rovina un pochettino il gameplay il meta nel senso non ha molto senso che tu uccidi un boss e poi eviti tutti i fight per riuscire a rimanere con uno dei loot migliori che puoi avere le armi mitiche sono davvero p e te ne vai magari ti porti via anche la card solo per dispetto e non far aprire il cavo per questo si diceva una cosa veramente molto interessante dare al boss un'arma mitica e la chiave del cavo era una delle soluzioni ma l'altro oggetto mitico come potrebbe essere un rampino oppure una chug oppure un lancia granate esplosive metterli nel cavo perché alla fine che senso ha che li abbiano tutti e due i boss uccidi il boss ti apri il cavo ti prendi l'altra arma mitica o addirittura mettere le armi mitiche entrambe nel cavo quindi sei obbligato ad uccidere il boss ti prendi la card e poi te la devi giocare per poter ottenere uno dei loot migliori che puoi avere per l'endgame sono davvero convinto che sia una buona idea insomma ragazzi io per oggi tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video mi raccomando non dimenticate un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali oggi non sono in live perché è domenica ma noi ci vediamo domani mattina le 8 ciao